è bella a tutti ragazzi eccoci qua in un nuovissimo video oggi se non avevate visto quello short che sta per uscire ho comprato la bella PS5 ho comprato poi ragazzi volevo mostrarvi le luci led che ho comprato da amazon stavolta vi giuro che vi metto il link in descrizione abbiamo il telecomandino che ci cambia le luci possiamo anche con questo tastino cosa c'è scritto Fade7 lo clicchiamo ci cambia in automatico possiamo cambiare la luce anche c'è white per la notte guardate il letto che bello così ragazzi di notte è un po' fastidioso comunque ragazzi queste luci stavolta vi giuro che ve le metto in descrizione poi si accende e si spegne si può regolare la luminosità pagate 30 euro cose così no 20 euro queste qua da 5 metri e ce ne erano da 28 euro quelle là da quelle là di 10 metri qua mi sono costruita la mia posizione da gaming e stop abbiamo finito alla prossima ragazzi ciao ciao